L'ex primo ministro portoghese Antonio Guterres è ancora in testa per diventare il prossimo segretario generale dell'ONU. Nel secondo voto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, l'ex alto commissario per i rifugiati ha ottenuto 11 preferenze su 15 dei paesi membri come possibile successore di Ban Ki-moon che lascia l'incarico alla fine del 2016.